Ssshhh! Eccolo! Eccolo! Dio è il tempo pronto! Mamma mia! Fuori d'artificio! Eccolo! 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 Ssshhh! Ssshhh! Io non voglio buttare le cose! Oddio, regà! Parca miseria! Sto venendo! Oddio mio, regà! Oddio! Oddio! Così, è grosso! Oddio! Oddio! Oddio mio quanto è grosso! Oddio! No, stupendo, stupendo! ma è lui eccolo ecco tocca, 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 prego fai un guarant tocca, taccato non ti piace più è andata pure questa porco di b形 What space торsandro ma avreste quanto è grosso avevi visto quanto è grosso a rica sei bravo il motor zampal è sempre che sei bravo oh c'è presente che sei bravo? i muterini piccoletti basta ora nemmeno siete tre vediamo i riflessi a rica possiamo dire ai nostri nipoti io ce io ce a rica sei bravo a rica sei bravo lucido poi a rica sei bravo no rica guarda guarda eccolo guarda che roba aspetta ho fatto bene ma carlo carlo guarda l'80